Qualcuno l'ha ammazzata. Siamo vittime tutti di questa schifosa mia. Manca tua moglie. Sentiamo, perché una di queste sere non andiamo a cena? Sì, certo. Partiamo. Io, te e Lara, andiamo via. Prima devo capire chi ha ucciso Emma. Vada da Carolina e si dichiari. Che c'è che ti spaventa, Dafne? Avanti, parla. Dimmi quello che sai. È vero che te ne vai? Pensi davvero che Dafne abbia ucciso Emma? Lei dice di no. Ma mi ha mentito tante volte. In prima visione, l'ultima imperdibile puntata di Un passo dal cielo 6, I guardiani. Giovedì prossimo, 21 e 25.